Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 22 gennaio 2009. Veltroni e il gatto nero, ma che storia è mai questa? Perché arrivano sempre delle sorprendenti notizie. Un'agenzia stampa informa che Vincenza Pastorelli, l'ex bimba prodigio che nel 1969 a 4 anni vinse lo zecchino d'oro con la canzone Volevo un gatto nero, è stata condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione, quale procacciatrice di sesso, cartomante televisiva e maestra elementare. Il fatto esplose all'incirca un anno fa, quando la bimba prodigio venne accusata di aver gestito due centri di massaggio a luci rosse, uno a Guagnano e un altro a Lecce. Cantando la bella canzone Volevo un gatto nero, questa simpatica ex bimba prodigio vinse nel 1969 lo zecchino d'oro. Ora ce la ritroviamo condannata, poi ci sarà ovviamente l'appello, ma le prove sembrano difficilmente confutabili. E' condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione, quale procacciatrice di sesso, cartomante televisiva e maestra elementare, non so cosa abbia fatto. E ma perché? Cosa c'entra questa faccenda dello zecchino d'oro del gatto nero? Cosa c'entra? C'entra, c'entra perché recentemente, leggo sempre qua da un'agenzia stampa, non molto tempo fa, tra il 15 e il 16 di gennaio di quest'anno, durante un convegno del Partito Democratico, Walter Veltroni ha criticato il quiz show in cui si possono guadagnare centinaia di migliaia di euro senza saper far nulla, ha ragione, senza saper far nulla perché è un puro caso. Certe trasmissioni contengono un messaggio sbagliato, occorrerebbe trovare la via della sobrietà e della solidarietà che abbiamo smarrito. Ora, a queste considerazioni di Walter Veltroni, per quello che mi risulta, hanno risposto soltanto i controinteressati, cioè i showman. Per esempio, Pupo, pensate un po' voi, Pupo dice, rimprovera Walter Veltroni dicendo queste esternazioni sono demagogiche e senza senso, dovremmo allora togliere alla gente la possibilità di sognare? Vogliamo abolire la speranza di agguantare la fortuna, sia pure per tramite di un gioco? Ma la cosa più bella la dice Fabrizio D'Annoce, figlio del filosofo ipercattolico o tradizionalista Augusto D'Annoce, che purtroppo mi fecero studiare all'università, va bene? E quello dice D'Annoce? Allora bisognerebbe cancellare il superenalotto e le varie lotterie promosse dallo Stato. Poi ci torniamo qua sopra. Ah, anche Max Giusti, anche Max Giusti, conduttore di affari tuoi, anche lui è deluso da quello che ha detto Walter Veltroni. Ma pensate, io purtroppo non ho avuto riscontro che qualcuno si sia affiancato per difendere Walter Veltroni. La difesa d'ufficio che fa per esempio il direttore di Rai 1, Fabrizio D'Annoce, difesa d'ufficio contro Walter Veltroni, quando dice allora bisognerebbe cancellare il superenalotto, ma dico ma manca il senso della logica? Ma le tv, quelle di Berlusconi, possono anche fare questo lavoro in quanto nessuno gli paga il canone. Ma uno di noi che paga il canone televisivo vorrebbe anche capire com'è questo strabiliante movimento di denaro e la questione del superenalotto, delle lotterie a cui fa riferimento Fabrizio D'Annoce, ma che cosa c'entra? Quelli sono affari tra il singolo cittadino e se stesso, perché chi vuole giocare al superenalotto è vero che è gestito dallo Stato, ma nessuno ci paga il canone. Il discorso qua è che sulla tv di Stato, dove i cittadini pagano il canone, e certe trasmissioni, come dice Walter Veltroni, non ci dovrebbero essere, perché sono profondamente diseducative. Sembra che siamo diventati il paese dei balocchi. E poi torniamo ancora sulla questione dei giochi che sono gestiti dallo Stato, come gli alcolici e come le sigarette. E io vorrei che lo Stato gestisse anche le cosiddette droghe, leggeri e pesanti. E il male minore. Se non ci fosse lo Stato a gestire delle lotterie, si parla qua del superenalotto, non lo so, e ci sarebbero le bischie clandestine. Ci sono già adesso le bischie clandestine, mi pare nel Napoletano e in altre regioni. Immaginiamoci se non ci fosse lo Stato che gestisce il gioco, come si chiama, il gioco d'azzardo, non lo so come chiamarlo. Quindi è bene che lo Stato gestisca, ma una cosa è che lo Stato gestisca le lotterie, e poi il singolo cittadino dice sì, gioco o non gioco. E un'altra cosa è che la tv di Stato, il discorso sul piano etico dovrebbe valere pure per Mediaset, eccetera. Ma un'altra cosa è che la tv di Stato gestisca questi quiz, perché la tv di Stato vive fondamentalmente col canone degli italiani. Sarebbe interessante sapere per quale motivo nessuno dei grandi, che io sappia, nessuno dei grandi sociologi, degli psiconaristi, degli psicologi sia intervenuto su questa questione. E Walter Beltroni è stato lasciato solo. Sono intervenuti soltanto quelli che avevano l'interesse a intervenire, c'è Pupo, pensate un po', Pupo, e poi il direttore di Rai Uno Fabrizio Del Noce, e poi Max Giusti, e poi anche altri. Beh cari amici, questa è la situazione. Va bene? È una sorta di paese dei palocchi. Poi vediamo queste notizie, dove vinse lo zecchino d'oro, condannata a tre anni addirittura per aver procacciato sesso, per attività di cartomante e via di seguito. Ha vinto nel 69, ha vinto lo zecchino d'oro, aveva quattro anni nel 69, cantando, e voleva un gatto nero. Dio che tristezza. Va bene cari amici? Grazie se mi avete ascoltato, e tanti saluti da Serafino Massoni.